Ciao a tutti, io sono Sipizio Magico e oggi siamo qua con PES6 per fare la rivincita del Milan di ieri. Chiamerò la rivincita. Roma-Milan. Dai Suso? Sì Suso, sì Suso, sì Suso, sì Suso, sì Suso, sì. Fallo. Eh sì, è fallo, questo è fallo. Muniscilo anche. No, va bene. Dai, facciamo gol subito. Chi c'è lì? Sì! Sì! Grande! Grande, ecco ancora lui, Pionte. Sì! 1-0. Bellissimo. La cazzo, la messa, guarda che roba, guarda che roba, guarda la messa. Ha fatto tipo un paronetto, bellissimo, ancora. Primo marcatore si è avverato. Cerchiamo di fare il raddoppio subito. Lascia intanto, ehm, mettiamoci un attimo in postazione di squadra. Facciamo autodifesa. Puttala via sta palla, così. Via con la palla. Ok, lì così. Perfetto. Sì che ti ho visto. Dai, chi è? Sì, Piontec, sì Piontec, fare il raddoppio, fare il raddoppio! Cos'è? Cos'è quel tiro di merda schifoso? Quel tiro di merda, cioè dai, ma quello lì è da fare gol. Ti ha lasciato il posto della Madonna, ti ha lasciato? Mi ha riuscivano da mettere dentro. Affanculo, va. Quel tiro lì. Merda. Ok. Sì, Bacayoko. Daglieriamo lì. Sì, Piontec, fallo, fallo! E niente, non riesce a con... Sì, chi è? Ha fatto gol lo stesso. Grande Suso. Oh sì, ecco il raddoppio. Che cazzo però. Non so mica se ha sbagliato lui. Fa vedere un attimo. Ha fatto un tocco in più forse. Lo devo tirare subito. L'allungata. No, ma è stato bravo a chiudere un po' stavolta. Poi è arrivato Suso. Dentro! Così, 2-0. 0-2, va. Il primo tempo finisce con la vittoria del Milan. Vantaggio. Primo marcatore, Piontec. Dove te ne vai? Mamma mia! Cazzo, era marcato da due, è riuscito a tirare lo stesso. Ma che numero, è un passaggio, è adatto. E che cavolo. Che cazzo. Ebbè, sì, lo fa lui e non è fallo, lo faccio io subito fallo. Vabbè, che gheda. Eccolo. E' pazzo! Questa è un'occasione molto interessante. Questa è un'occasione molto interessante. Una buona esecuzione. L'attacco, eh? Uuuuuh. Mamma mia che cazzo. Di quante uscite? Uuuh, borona miseria. Small goal. E niente, fa passaggio da un rumo, è incredibile. Dai, Klaibert! Levati dalle palle, levati. Levati dai maroni. Cazzo, sta con sempre l'ora adesso. Uuuuh. Tutta la via sta a parlare. Cazzo, eh? Non riesco più a toccare. Dai, mo' dai. Su. Così. Vai, mo' così. Dai, la destra. Lì, così. Su, uso. Grande. Sì. Sì, Piontek. Sì, Piontek. Sì, sì. Vaffanculo. Ma come cazzo ci ha dato? Ma non ci credo. Ma che gol si è mangiato? No. Ma perché tira così della volta? Oltre, nel 6, ho notato che tira automaticamente. Boh. Era un difetto del gioco. Cazzo, lo so. Sì, Piontek. Dai! Eeeh, fallo, eh? Si è chiusa molto bene la difesa, stringendo... Ma non è fallo? Che ladri. Ma che ladri. Possibilità di una ripartenza. Sto cazzo. Cioè, era fallo prima? Fancurlo, va. Sì, Calanoglu. Grandissimo. Che c'era solo. Dai, Calanoglu. Tira. Prova a tirare. Ma va, fancurlo. Vaffanculo, Calanoglu. Puttana. Mi sembra come schifo. Tira schifo anche qui, oh. Mamma mia, che brutto uomo. E Ciccio come la prenderà? Bene, direi. Si mangia la panchina. È una cosa. Dalla parte opposta, su secondo palla erano rimasti in avanti, quindi poteva forse stoppare palla e mettere su secondo palla. Ma che cazzo, eh? Sì, Suso, grande. Prova a tirare. Niente, la parata. La parata, la grande parata. La palla ancora per lui. Sì. E dai, però, perché non scatta Piontek? C'è un intervento in l'area di rigore. Attenzione, rigore. C'è arrivato. Sì, sì, sì. Facciamo proprio tirare la Piontek. Vediamo. Vai! Palo. Ma vaffan... Ancora. E dai! Non ci credo, ho sbagliato. Vaffanculo, vado a fare doppietta. Ho sbagliato. E ora sono pericolosi. Sì, Suso, sì, Suso, sì, Suso, sì, Suso. Prova a tirare. Come cazzo tiri? Sì. Eh, vabbè. Fazio. Gravissimo. C'è una donna Fazio. Buttala via. Uh, no. Bravissimo. E ancora parata. Bravissimo. Due tempi. Così Sì così Sì Suso È fallo però questo È andato addosso Va bene Finita Fischia Fischia sta cazzo di fine E poi è finita Ma sì che è finita Adesso è finita Eh sì Ho preso la rivincita Nel 6 Non so bisogna vedere Nel 17 Nel 18 Nel 19 Il 16 non lo faccio Perché mi fa schifo Anche il 15 Ok è finito il video Grazie per la visione Ciao a tutti